Alessandro Gioia, finalista di Bully e Poo Per Contest, ce l'hai fatta! Grazie, grazie mille! Secondo te che cosa ha colpito di più il pubblico delle tue performance? Spero che abbia trasmesso qualche cosa di positivo, l'amore, ecco, è quello che volevo trasmettere. L'amore, il sentimento dell'amore! Sì, esattamente. Beh, dici poco insomma, portare l'amore sul palcoscenico in una maniera tra l'altro così originale. Ci l'ho messa tutta. Allora, tu sai che in finale bisogna portare performance inedite, a questo punto bisognerà pensare a qualcosa di nuovo, eh? Va bene, ok. Come ti preparerai? Non lo so, proviamo, adesso vi vado a casa e ci studio sopra. Al cervello che frulla e troviamo qualche cosa di nuovo. Ok, ok. Allora, grazie ad Alessandro Gioia, lo rivedremo in finale e complimenti ancora. Grazie mille, grazie a voi tutti. Grazie mille, grazie a voi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.